Ciao a tutti, sono Andrea Montecalvo e a breve entrerà in questo video mio fratello Tony Montecalvo con il quale abbiamo deciso di suonare due brani per voi, ognuno da casa sua chiaramente in questo momento e faremo due pezzi di un artista che sicuramente riconoscerete e che amate se amate Bruce quindi niente, il messaggio che volevamo dare con Tony era quello di supportare il Pink Cadillac Club Pink Cadillac Music, supportare il PIT, circolo culturale al centro di Napoli, nel cuore di Napoli un abbraccio fortissimo nell'ordine di come l'abbiamo conosciuti a livello cronologico persone meravigliose che sono Giovanni Scogna Miglio, Bruno Finn, le prime due persone che abbiamo conosciuto poi a seguire abbiamo conosciuto Paola Iappelli, Giovanni Menna, persone meravigliose come sono meravigliosi tutti i supporters del club un saluto particolare a chi mi ha contattato per questa opportunità che è Lello Pastore quindi un abbraccio forte e un abbraccio forte anche al grande Mario Scogna Miglio che abbiamo conosciuto che era un bambino, adesso è diventato un uomo e un grande chitarrista quindi cominciamo a suonare, grazie a tutti e arrivederci spero presto Ciao Pinkers, siamo qui con Andrea per mandarvi un abbraccio, un saluto e soprattutto il nostro sostegno con due canzoni al PIT di Napoli il vostro fantastico circolo culturale suoniamone un paio dai grazie a tutti 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 grazie a tutti